fratelli juventini e sorelle juventine nel calcio mercato tg di oggi è una punta di orgoglio si tra diciamo si trasmetterà dai miei parole perché ieri sera direttore sportivo della juventus fabio paratici ha praticamente risposto a tutti coloro che vengono sotto qui nei commenti a scrivere panzanate ovvero frasi tipo tu e dan ne sparate tante ne azzeccaste una siccome queste persone sono in mala fede sono tendenziose sono persone cattive perché ovviamente se loro ascoltassero i video anziché scrivere stronzate capirebbero che noi diamo il conto delle trattative che sono in essere ma bando alle ciance fabio paratici ieri sera finalmente aggiungo finalmente per la prima volta dopo tante frasi fatte e banali tipo noi siamo una squadra competitiva valuteremo solito tiritiera fritta le fritta ereditate direttamente da marotta perché marotta diceva esattamente le stesse identiche parole anche lui faceva venire veramente il latte ai piedi ieri sera quando gli hanno chiesto se c'erano dei giocatori in particolare che seguivano o in particolare locatelli che un ottimo giocatore lo sappiamo benissimo la risposta di paratici è stata se io dovessi darvi conto di tutte le trattative che abbiamo in piedi o che trattiamo faremmo una trasmissione di 4 5 ore per la grande gioia di dimarzio ok se io dovessi darvi conto di tutte le trattative che abbiamo in piedi e dei giocatori che trattiamo io farei una trasmissione di 4 5 ore con voi e farei la felicità di dimarzio non lo ripeto più rivedetevi il video se non l'avete capito bene questo è veramente un imprimatur che mi dà grande gioia e che ci dà soddisfazione a me e a Dan perché noi non facciamo altro che dirvi le cose di cui veniamo a conoscenza nel mondo del mercato le cose si vengono a sapere perché se conosciamo dei procuratori o conosciamo dei dirigenti di Exxon o di Adidas o conosciamo qualcuno che gioca nella Juventus o qualcuno che è parente zio cugino padre che gioca nella Juventus insomma si ha la fortuna di avere una moglie come sottoscritto che praticamente ospita tutte le squadre di Serie A e tutti i procuratori di Serie A dove io ho la fortuna di poter parlare chiacchierare incontrarmi in qualità di giornalista oltre al fatto che magari sono carini nei confronti miei per rispetto diciamo a mia moglie di conseguenza le cose che noi diciamo sono vere e quindi io ringrazio pubblicamente veramente in un video è una cosa che non avrei mai pensato di dover fare ma a nome mio a nome di Dan ringrazio pubblicamente Fabio Paratici per le cose che ha detto ieri sera perché è vero è vero la Juventus ha in piedi tantissime trattative ormai è superfluo che vi dica che uno può fare 100 trattative e non concludere neanche una giusto perché poi arriverà il furbo di turno furbo insomma il coglione più che furbo di turno che scrive sotto eh tante trattative poi non prende nessuno ma non è mica colpa né mia né di Dan non è colpa né mia né di Dan se la Juventus poi non compra nessuno noi vi diamo conto di ciò che la Juventus sta trattando e come detto Paratici sono tanti i nomi sul taccuino tanti tanti ora lascio parlare al tempo per quello che riguarda Lovella Scamacca Reynos tutti i giocatori giovani poi me ne parla sempre Dan che è molto bravo molto preciso molto ficcante io oggi voglio tornare su un giocatore di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi e siamo stati i primi i primi io e Dan a darvi questa notizia perlomeno eh a livello eh nazionale perché poi non so se c'è qualche altro youtuber che avanterà davvero perché poi dovete sapere che ci sono youtuber che prendono notizie da me e dicono che le andate prima no peccato che c'è la data l'orario e tutto quanto ma comunque non importa no ormai qui è il mondo di tutti dicono tutto quindi non importa noi non ci interessa noi andiamo avanti per la nostra strada senza crearci problemi o preoccupare degli altri dicano ciò che vogliono tanto il 99 per cento sono balle e fandonie soprattutto quelle che sono contro me contro Dan o contro gli altri per cui allora la Juventus eh non molla non molla eh la pista Gomez oltretutto fresca di giornata ve la dico fresca fresca di giornata Di Bala ne avrà per un bel pezzo non sarà una cosa veloce Di Bala purtroppo ieri sera è stato massacrato dai giocatori del 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 Sassuolo che giocano molto bene ma sono anche un po' macellaia mi ha ricordato molto la partita di Juventus Atalanta perché l'Atalanta gioca molto bene ma nel primo tempo hanno giocato a picchiarci esattamente come ha fatto il Sassuolo nel primo tempo per cui ma venendo a mancare Di Bala essendo ancora in alto mare il discorso quarta punta ipotetica quarta punta anche si sono fatti mille nomi io non ci voglio più tornare fino a che non ci sarà una strada ben luminosa ben dritta vi dico tenete monitorato lo scambio Bernadeschi Papugomes perché la Juventus sta facendo tutto il più possibile immaginabile per far capire a Bernadeschi che posto per lui non ce n'è avete visto Pirlo quando lo mette in campo mancano cinque minuti alla fine della partita 85esimo 87esimo 90esimo addirittura cioè è un chiaro messaggio che la società e l'allenatore stanno mandando al giocatore qui per te non c'è posto prima di te davanti hai Quadrado hai Kuluzeschi hai Chiesa e poi ovviamente hai Morata e poi hai Di Bala e poi eventualmente se prendiamo qualcun altro per cui se Bernadeschi si mette in testa che se vuol farlo europeo deve provare a giocare noi contiamo molto io e Dan che Bernadeschi si faccia convincere la strada più facile la strada più diciamo in discesa è proprio il Papu perché il Papu vorrebbe provare un'esperienza in una grande squadra finalmente dopo tanti anni di onorata carriera in Atalanta ed è la Juventus il Papu verrebbe molto 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 volentieri questo ve lo dico per certo alla Juventus è la sua prima scelta quindi signori da qui al 31 tenete monitorato la pista Bernadeschi Papugomes perché questa è la via per poter portare a Torino un giocatore di grande qualità che all'occorrenza può giocare trequartista seconda punta addirittura potrebbe giocare anche alla Isco che non è proprio né un trequartista né una seconda punta quindi signori questo è quanto per oggi adesso io do la parola al nostro Dan YouTube che ha il canale lo sapete se volete potete anzi iscrivetevi al suo canale perché è molto molto bravo e ripeto in chiusura di video inaspettatamente ma con grande piacere ringrazio ancora Fabio Paratici perché finalmente ha sdoganato quello che noi diciamo da tantissimo tempo ovvero che il modo superandi della Juventus è mettere in piedi tante trattative per poi riuscire a portare a casa quella che risulta essere la più conveniente di fatto ok quindi fino alla fine Forza Juve Forever and Ever Uber Alice e te hanno le CR7 ed ora do la parola a Dan nel calciomercato ciao a tutti ci vediamo domani col pre partita di Juventus Genoa di Coppa Italia e una sorpresa ciao 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 a tutti questa vittoria con il sassuolo per 3 a 1 non ci ha lasciato delle belle cose in testa abbiamo notato ancora una volta le difficoltà tecniche che abbiamo e delle carenze di alcuni giocatori di livello che ci mancano effettivamente in rosa e in più si sono sommati ahimè tre infortuni oggi sono usciti i risponsi di queste visite mediche abbiamo visto che McKennie sarà a riposo sicuramente con il Genoa ma forse rientrerà con l'Inter quindi niente di grave idem chiesa la botta che poteva fargli saltare la caviglia per fortuna non è così grave sarà monitorato anche lui probabilmente a riposo il problema è su Paolo Di Bala Paolo Di Bala starà fuori una ventina di giorni circa perché ha avuto questa lesione diciamo piccola lesione muscolare allegamento perlomeno collaterale questa cosa appunto come dicevo all'inizio ci fa ributtare ripiombare a capofitto nel calciomercato perché ancora di più ora non potendo avere Di Bala a disposizione durante il mese di gennaio e avendo un Morata che ancora non è rientrato pienamente abbiamo visto giocare pochi minuti torna prepotentemente la voce sul quarto attaccante che la Juve non ha e che diciamo tutti che dovrebbe arrivare proprio per una questione di necessità e allora parliamo iniziamo con una trattativa fatta e compiuta Dabo, questo giovane giocatore del Nant B, della seconda squadra del Nant oggi era a Torino per fare le visite mediche è un giocatore che la Juve prende in prestito con diritto di riscatto per l'Under 23 una trattativa che domani finalmente potrà concludersi è quella di Brian Reynolds terzino destro, questo ragazzino americano ne abbiamo già parlato tante volte domani c'è l'incontro finale per chiudere questo accordo quindi il giocatore andrebbe al Benevento fino a fine stagione e poi la Juventus dall'estate potrà avere questo ragazzo in squadra e gli farà un contratto fino al 2025 ma tornando al discorso di inizio video parliamo dell'attaccante in questo momento le quotazioni di Scamacca giovane attaccante di 22 anni in forza al Genoa ma è di proprietà del Sassuolo sembra essere sempre più importante come voce legata alla Juventus la Juve sta sondando il terreno a quanto pare parlerà col Sassuolo per avere questo giocatore in prestito già da gennaio un prestito che potrebbe addirittura essere di 18 mesi quindi sostanzialmente non solo i sei mesi che la Juventus stava cercando di avere per un attaccante tra virgolette a fine carriera ma in questo caso essendo un 22enne un ragazzo giovane promettente la Juve potrebbe anche fare un prestito molto più lungo quindi staremo a vedere se effettivamente sarà Scamacca in forza al Genoa l'attaccante che arriverà per rinforzare la nostra rosa in via emergenziale a gennaio ma ora veniamo al nome che sta ritornando a bomba oggi su tutto il tubo su YouTube ne stanno parlando già diverse persone ne parlo anche io ho in programma di fare una live proprio oggi alle ore 18 e un quarto quindi finito di guardare questo video sul canale di Max fiondatevi subito sul mio canale YouTube Biden Ceres perché ci sarò io live che parlerò di calciomercato ebbene Pogba il nome di Pogba come ben sapete ne stiamo parlando da tanto tempo è un nome che viene associato spessissimo alla Juventus come grande ritorno e gradito ritorno fino adesso abbiamo affrontato anche quelle che erano le difficoltà economiche nel portare questo giocatore a Torino visto che lo United chiedeva troppi soldi che la Juventus non aveva a disposizione ebbene vi dico brevemente la situazione c'è ancora la possibilità remota ma c'è che Pogba possa arrivare a Torino a gennaio io al momento se vi piacciono le percentuali gli darei un 10% di possibilità lo United è sceso con le pretese perché dai 70 iniziali siamo a circa 60 lo United vuole circa 20 milioni a gennaio come prima rata e la Juventus può dagli ma soltanto se facciamo una cessione oltre alla rescissione con Chedira che libererebbe non solo un posto ma anche diversi milioni di ingaggio e quindi aumenta un po' le casse della Juve la Juventus sta cercando a tutti i costi di monetizzare tramite una cessione e il più papabile in questa cessione è Bernardeschi che Max vi ha accennato come possibile scambio per Papu Gomez ma potrebbe essere ceduto anche monetizzando altrove Bernardeschi potrebbe essere la chiave se vendiamo Bernardeschi abbiamo i soldi per la prima rata di Paul Pogba teniamoci aggiornati ragazzi sempre Forza Juve per la prima rata di Paul Pogba